Io sento che c'è un calo e quindi credo che debba essere uno più giovane a prendere in mano le soldi della Chiesa. In questo momento, qui aggiungo io, in un momento di crisi globale, soprattutto di crisi culturale, spirituale, e veramente ci vuole un Papa ricco di energia, come ha detto lui oggi, e quindi è arrivata la decisione, e questo è scioccante, alla decisione di dimettersi da pontefice. Questo non era stato mai, mai, pensato sì, ma non reso possibile. Io sono convinto che Benedetto abbia fatto tutto da solo, nel senso che ha riflettuto a lungo, ha visto, come anche quando sono andato all'ultima visita, ha visto un po' di difficoltà nel seguire, diciamo che il ritmo è enorme, nel seguire il ritmo delle cose, e allora ha deciso di fermare, ecco. E secondo me è stato anche il frutto di quanto aveva vissuto Giovanni Paolo II, prima, e come Ratzinger è stato vicino a lui, e cioè ha fatto una riflessione di non mostrare probabilmente tutte le debolezze che, diciamo, noi abbiamo apprezzato, ma qualcuno, mi ricordo, ed è cominciata una grande discussione, subito dopo la morte di Giovanni Paolo Sont, se avesse fatto bene a mostrarsi in tutte quelle debolezze, ricordo, chiedo scusa, ricordo quel momento in cui voleva e a tutti i costi parlare non poteva, ero questo, per alcuni potrebbe diventare uno spettacolo, piuttosto che un intervento, diciamo, anche di grande affidamento al Signore, dice io starò fino alla fine, anche con i miei limiti, con le mie cose, ma giacché Benedetto XVI è una persona, diciamo, soprattutto di fede, ma è un teologo, conosce bene tutte le motivazioni perché ci possa essere anche le dimissioni. Grazie a tutti.